Ciao ragazzi e benvenuti finalmente in un nuovo video su Stranger Things 4. Nel video di oggi parleremo del quarto e ultimo teaser di Stranger Things 4 che uscirà prossimamente e faremo delle teorie su quando potrebbe uscire e su due cosa potrebbe sostituirlo, ma capirete di cosa parliamo guardando tutto il video. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare subito un mi piace per sostenere il progetto di Stranger Things e avere ancora e ancora e ancora più video. Mancano meno di due settimane al tanto atteso Stranger Things Day che si tiene ogni anno il 6 novembre. E dal momento che manca così poco mi sento in dovere di dover parlare del quarto teaser che uscirà prossimamente. Il viaggio che ci sta portando alla quarta stagione ha avuto al momento tre teaser che, partendo dall'uscita del secondo, sono stati numerati da 1 a 3, mantenendo la stessa numerazione delle cavi del laboratorio di Hawkins, quindi 001, 002 e 003 su 004. I tre teaser usciti finora ci hanno dato un piccolo assaggio di quello che potremo vedere nella prossima stagione, partendo proprio da un grandissimo spoiler nel primo teaser dove vediamo che il nostro sceriffa preferito, Jim Hopper, è ancora vivo. Nel secondo teaser abbiamo visto che il laboratorio di Hawkins sarà attuale ora più che mai e ci sono tante altre cavie più o meno coetane con 11 e nell'ultimo teaser abbiamo visto la famiglia Kirill che è stata al centro di un possibile attacco del sottosopra e che soprattutto questo micormondo esiste da davvero tanti anni, almeno da 30 anni prima. Ma abbiamo parlato di quest'ultimo teaser nel video che vi lascio nelle schede. È logico quindi intuire che ad oggi è rimasto solamente un teaser trailer che uscirà prossimamente e questo teaser, questa incognita, è l'elemento principale di questo video. Ma quando verrà rilasciato questo grandioso teaser e ultimo e conclusivo per questa miniserie di spoiler? La risposta più scontata è il 6 novembre per lo Stranger Things Day. Per chi non lo sapesse, lo Stranger Things Day è un giorno speciale che Netflix ha fissato ufficialmente dal 2018 per celebrare e festeggiare tutto ciò che riguarda il mondo di Stranger Things. Gli eventi principali della serie e della prima stagione sono iniziati proprio il 6 novembre 1983 quando 11 aprì il passaggio e Will Byers scomparve nel nulla. Negli anni scorsi abbiamo ricevuto, in occasione dello Stranger Things Day, davvero diversi spoiler. Ad esempio riguardanti la terza stagione, gli errori sul set di tutte le stagioni e degli spoileroni sulla quarta stagione, compresa anche l'ufficializzazione del titolo del primo episodio della quarta stagione. L'anno scorso abbiamo poi avuto modo di poter osservare per la prima volta il merchandising di Stranger Things 4, anzi dell'Elfairy Club, e alcune immagini dietro le quinte della prossima stagione. Questa volta, con le riprese finite e la data di uscita che ci verrà rivelata molto probabilmente prossimamente, ha logicamente senso che avremo questo teaser, il quarto e ultimo teaser, il 6 novembre, tra pochi giorni prima dell'ufficializzazione della data di uscita e del trailer ufficiale. Se questo poi non dovesse succedere, non sarebbe poi un dramma avere al posto di questo teaser i titoli degli episodi della quarta stagione, che ci potrebbero permettere di iniziare a fare le vere e proprie teorie sulla quarta stagione, di poter immaginare con la nostra mente quale sarà la trama, ricordandoci che Stranger Things, con i titoli, un bel po' di spoiler li fa sempre. E tra l'altro, se volete anche voi festeggiare lo Stranger Things Day, nel caso in cui dovesse uscire qualcosa di grosso, o comunque farvi un regalo, vi lascio nella descrizione una lista di oggetti riguardanti Stranger Things davvero belli, che potete acquistare, ricordo, link in descrizione. Comunque, ritornando al possibile teaser trailer e la data di uscita di questo teaser trailer, l'unico tassello che ci manca alla conduzione verso la quarta stagione, l'ufficializzazione, come detto, delle cose più importanti, ovvero data di uscita e trailer, è proprio questo teaser. Parlando in modo realistico, secondo me, non dobbiamo aspettarci di avere la data di uscita ufficiale prima del 2022. Ricordiamoci, infatti, che Netflix ci ha detto, tramite uno sneak peek, che uscirà il prossimo anno. Quindi è come se per quest'anno Netflix ci avesse già detto, bene, bene, bene. Uscirà nel 2022, non chiedermi altro. Rimandiamo tutto questo discorso al prossimo anno, ci aggiorniamo tra pochi mesi. Ricordiamoci, manca poco al 2022, siamo praticamente a novembre. Ritornando al teaser trailer numero 4, se non dovesse uscire il 6 novembre per fatalità, potrebbe comunque uscire prima della fine dell'anno, perché, come detto, ricordiamoci, le cose più importanti arriveranno nel 2022, inclusa la serie tv, inclusi gli episodi, la pubblicazione dell'intera stagione. Quindi io personalmente me lo aspetto quest'anno e dal 6 novembre al 31 dicembre la strada è molto corta e potrebbe avvenire questa data in un giorno qualsiasi, casuale. Quello che spero personalmente è di vedere questo teaser, senza fare troppi calcoli, il prima possibile. Cioè, se esce domani, sono comunque contento, ecco. Cioè, il prima esce, meglio è. Voi, invece, cosa ne pensate quando, secondo voi, potrebbe uscire questo nuovo teaser trailer? Scrivetemelo nei commenti dicendomi anche, secondo voi, di cosa potrebbe parlare. Vi ricordo inoltre che in descrizione c'è una lista di articoli da poter acquistare per lo Stranger Things Day, regalare a un vostro amico, a vostro figlio o comunque a chi ama questa serie. E inoltre vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video sulle migliori serie tv, inclusa chiaramente Stranger Things. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!